No, no. Yes. Riprendo dall'alto che si sembra più bello. Maglie, aria mercataria. Dove volevamo presentare il disco? Non è arrivato. Presentiamo il disco. La Malanotte di Palmiro Durante, riarrangiata dal gruppo. Bagliati di Mansurov, Eldar Mansurov. Un brano fantastico, riarrangiato dal gruppo. Poi, brani composti da me, Maddalena, Comuna Zingarella. Stasera canta. Brani fantastici, fantastici. Ritorno alle origini, quindi avete anche riarrangiato qualcosa di tradizionale. Stasera cantante, no? Sì. Invece di giornalista. Invece di giornalista. E quindi... Riprendo, riprendo. Per Massivella, brano tradizionale. Allora, allora te ne vedi. Allora te ne vedi. Ok. Ritorno al sud. Temi tratti da Otranto. Oltre. Non guidate al di là del mare. Brano del mare. Il mare è un strutturiano fantastico. Va bene. Sulus è la zona e sulus è la carta. Basta. Questa sera preparrete qualcosa dell'ultimo tour degli Abash? Sì, da Madri Senza Terra. No. Del precedente, chiaramente. Madri Senza Terra. Cosa? Non proporrete niente questa sera? No, è un ritorno all'origine, cioè agli Abash più etno, più pizzicati a modo nostro, più forte, più tribal. Tribal, tribal. Rock tribal, mediterraneo, rock e non so più che cosa. È del Progressive che cosa rimane? Sempre. Reggi sempre. Ok. Va bene. Etichetta? Edizioni Aerospace. Edizioni. Distribuito dalla casetta del Mezzogiorno. Ah, ok. Prostimamente. Partito già. Partito. In tutte le edicole. In tutte le edicole. Siamo arrivando! Siamo arrivando, siamo arrivando, siamo arrivando, siamo arrivando! Siamo arrivati! Siamo arrivati!